siamo a marina di camerota adesso faremo un giro verso baia degli infreschi quindi attraverseremo prima il pozzallo poi cala bianca che è veramente un posto che merita quindi partiamo siamo partiti da poco e abbiamo già incontrato una grotta molto carina il posto è veramente bello promette bene ma lo immaginavamo adesso proseguiamo andiamo verso il pozzallo quasi tutta scogliera quindi insomma attenzione bisogna avere un po di esperienza con il kayak non ci sono molti punti per scendere a terra però merita tante grotte bellissimo i fondali sono meravigliosi peccato che ci siamo scordati le maschere a casa no io ce l'ho ma noi domani li compriamo no io ce l'ho ma noi Siamo arrivati al Pozzallo, qui c'è la caratteristica grotta con due entrate e adesso ce ne andiamo in spiaggia, andiamo a vedere la caletta. È stato un bel giro, abbiamo deciso di tornare indietro perché si sta avanzando il vento, però domani torniamo qua, se il mare permette, spero di sì, siamo al giugno. Ci è piaciuto tanto e dobbiamo completare il nostro giro. Ovviamente quando si va a mare bisogna pulire, infatti qualcuno si era portato una scopa del mare, peccato che sarei dimenticata lì e quindi abbiamo recuperato con un po' di spazzatura. e buttiamo tutto noi. Siamo arrivati al Pozzallo. Quello che caratterizza questo posto è il numero elevato di grossi e di incenature che si trovano in questo esporto, cioè veramente tante. Tutte belle, una più bella dell'altra, andiamo a esplorare tutte quante, perciò stiamo perdendo un sacco di tempo. La Baia degli Empreschi era la nostra meta finale, volevamo arrivare fino a qui. Ci siamo arrivati, il tempo è splendido e il posto è meraviglioso. La Baia degli Empreschi è un po' di spazzatura. La Baia degli Empreschi è un po' di spazzatura. La Baia degli Empreschi è un po' di spazzatura.